Possiamo essere, io credo, tutti soddisfatti. Sembra anche a me. Noi ora vorremmo rifare il percorso della pratica, dalla domanda fino alla concessione. Ammesso che una licenza si possa ottenere in tre giorni come questa. Caro De Vito, eppure che fosse, vuol dire che gli uffici funzionano con solenzia. Come loro dovere del resto. Vi lamentate sempre delle lungaggine burocratiche? Il consigliere, c'è il ragioniere Morzillo proprio per questo. Morzillo, mettetevi a seguire i signori consiglieri e portatevi dove vogliono. Non andiamo. Cominciamo dall'ufficio tecnico. Vi presento così per preparare la pratica. Bravo. Tante cose, arrivederci. Facciamoci questa partenza a città. Tante cose. Tante persone, hai scocchizioni. No, grazie. Scusa, De Vito, di solito quanto tempo occorre per ottenere una licenza? Guarda, la gente che vedi qui ci metterà per o meno sei mesi se tutto va bene. Se no, un anno, due anni eppure di più. Prova tu, come privato cittadino, si intende a chiedere una licenza edilizia e poi vedrai le cose come ti andranno. Ho capito la solita storia. Ebbè, che cosa credevi? Ho capito la solita storia.